Vladimir Lenin, il leader della rivoluzione d'ottobre Vladimir Lenin, nato Vladimir Ilik Ulyanov il 22 aprile 1870 a Simbirsk, oggi Ulyanovsk, fu un rivoluzionario russo, fondatore e primo leader del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, PCUS. Fu il principale artefice della rivoluzione d'ottobre del 1917, che portò alla nascita dell'Unione Sovietica, il primo stato socialista del mondo. Lenin nacque in una famiglia borghese di origine tatara. Il padre era un ispettore scolastico e la madre una donna colta e progressista. Lenin studiò giurisprudenza all'Università di Kazan, ma fu espulso per aver partecipato a proteste studentesche. Si trasferì quindi a Pietroburgo, dove si avvicinò al movimento operaio. Nel 1893 fu arrestato per la prima volta e condannato a tre anni di esilio in Siberia. In esilio, Lenin studiò approfonditamente il pensiero di Karl Marx e Friedrich Engels. Nel 1898 fondò il partito operaio socialdemocratico russo, Posdre, che nel 1903 si divise in due fazioni, i Menshevichi, che sostenevano una rivoluzione graduale, e i Bolshevichi, che invece propendevano per una rivoluzione immediata. Lenin divenne il leader dei Bolshevichi. Nel 1905, Lenin fu coinvolto nella rivoluzione russa del 1905, che fu repressa dal governo zarista. Lenin fu costretto a fuggire di nuovo in esilio, questa volta in Svizzera. Durante l'esilio, Lenin continuò a scrivere e a diffondere le sue idee rivoluzionarie. Nel 1917 scoppiò la prima guerra mondiale. Lenin sosteneva che la guerra era una guerra imperialista, che doveva essere sfruttata dai lavoratori per rovesciare il capitalismo. Nel febbraio 1917, ebbe luogo la rivoluzione di febbraio, che rovesciò lo zar Nicola II. Lenin tornò in Russia nel marzo 1917. In pochi mesi, riuscì a convincere i Bolshevichi a prendere il potere. Il 25 ottobre 1917, i Bolshevichi presero il controllo dei centri strategici di Pietrogrado, dando inizio alla rivoluzione d'ottobre. Dopo la rivoluzione d'ottobre, Lenin divenne il leader del nuovo Stato sovietico. Esercitò un potere assoluto, guidando il paese attraverso una serie di trasformazioni radicali. Lenin nazionalizzò le industrie, collettivizzò l'agricoltura e istituì il regime del terrore rosso. Lenin morì il 21 gennaio 1924, all'età di 53 anni. La sua morte fu un evento traumatico per l'Unione sovietica. Il suo corpo fu imbalsamato e posto nella piazza rossa di Mosca, dove ancora oggi conservato. L'eredità di Lenin L'eredità di Lenin è controversa. I suoi sostenitori lo considerano un grande rivoluzionario, che ha liberato i lavoratori dalla schiavitù del capitalismo. I suoi critici lo accusano di aver instaurato una dittatura repressiva, che ha causato la morte di milioni di persone. Indipendentemente dalle opinioni personali, Lenin è una figura fondamentale della storia del XX secolo. La sua rivoluzione d'ottobre ha avuto un impatto profondo sul mondo, dando vita al primo Stato socialista e aprendo la strada alla diffusione del comunismo in altre parti del mondo. Alcuni dei principali contributi di Lenin alla politica e alla società. La teoria del partito di avanguardia, che sostiene che un piccolo partito di rivoluzionari professionali sia in grado di guidare la classe operaia alla conquista del potere. La teoria della dittatura del proletariato, che sostiene che, dopo la rivoluzione, il proletariato deve instaurare una dittatura per difendere i propri interessi. La teoria del socialismo in un solo paese, che sostiene che il socialismo possa essere costruito in un singolo paese, anche se il capitalismo esiste ancora nel resto del mondo. Queste teorie hanno avuto un impatto significativo sulla politica e sulla società di tutto il mondo. Sono state utilizzate da diversi movimenti rivoluzionari, sia socialisti che comunisti.